Bello comunque, mi piace, figo, non trolliamo ma siamo a po' Ok, ok, ce l'ho, ce l'ho No, io non ce l'ho Devo girarmi una sigaretta da voi Oh no Porco boio, ne, 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 ne Dici il vicino, Marzone? Nel turbino, dici, perché c'è il vicino che fa nel turbino, eh? Vabbè, va bene così, va bene così No, ma è impossibile, va bene Per forza È la Pepe Laff questa È la Pepe Laff Per forza Fa matemi la sera Pepe Laff Sì, 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 sì Ma come cazzo faccio? No, vabbè ragazzi Portacci mie, di chi cazzo mi fa fare ste robe Chi si becca sto disegno, ragazzi, mi dispiace Anche il mio Ma adesso lo becco io, ma te Mi dispiace Mi dispiace Vabbè Matteo questo è il tuo mi sa Cos'è sta roba? Non so Figlio di puttana che ha messo quello il pazzisco Oh no Io adesso sono curioso di sapere No Che cosa va No Ma che è Aspetta Devo fare una cosa Che è sta roba C'è? Ok si apposto Ecco me questa l'abbiamo presa tutti dai Ti prego Dimmi che almeno Regà c'aveva una E all'inizio alla fine Ma no Ma come faccio la marzo Non posso disegnare una cosa del genere Allora Posso dire perché siete un po' dei figli di puttana Un po' tutti Un po' si lo sono Vorrei dire quello che stavo dicendo prima Porco boio Nene No Lo dici dopo marzo tranquillo Lo dici dopo marzo Non so come si scrive il barese Wow Wow La bocchina da mamma Che paga la televisione Puoi vedere a me Non penso fosse così Infatti non era in mamma Forse la televisione c'entrava Però per il resto Va bene io il fa faccio bene La connessione E la connessione Il resto non c'entrava un cazzo Di niente Iniziamo Vediamo un po' Vediamo Il masseo Magari questa No Eccolo non mi è arrivata Ok Eccolo È bellissimo Il masseo in doppia W No Si è arrivato questo Vabbè di ma Il masseo È stata ripresa È stata ripresa Easy Oh si Il disegno Svoro Svoro Il masseo in che ti Ma per me È mutato Come sono mutato Da un'ora Ah ok Fantastico Quello era al me Ma come No Mb la inta così In effetti c'hai capelli La murtra Ma 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 Però ma Te Scusa ma che disegno Di merda Ah no È lo stetino Che ha intato La murtra Ma Prossima Wall Street Ok 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 Oddio No Tu sei arrivato Ma come fai Oh no Vabbè questo ci sta Dai A me era Wall Street E non sapevo come farlo E mi stai dicendo che corre alla Wall Street Eeeh Come non mi fanno Ma andate a fare in culo Dai smettete Quello ho dato la definizione precisa Poi io ho fatto un palazzo Eh beh Dove essere Wall Street E io ho fatto un palazzo E io ho fatto un palazzo Guarda Vedo male C'è sempre Ma Eh era perfetto Ma che sta cacca No dai Ma cos'è Ma cos'è Quello è Che dica Che vuole Che vuole Che vuole Che vuole Che vuole Quella situazione internazionale Patrice Cross Chiama la persa De soreta Ma quello è Wall Street Ma zocca Fai vedo Che ragazzi Siamo arrivati a Federazione Italiana Scistica Da Wall Street Ma che cazzo di problemi avete Ma è una merda in realtà Che uccide Gianco Fantasma Che uccide Gianco Ah Ma no Ho capito Ho capito Non c'è un cacca Non c'è un cacca Ma Danco Ma Danco Ma Danco è arrivata Ma è bella Ma chi deve scrivere Perché c'è un fantastico È Gianco Cripto E' anche scritta male Ma io che cazzo Ma cosa cazzo Gianco piange No ragazzi Io ho capito Ma siamo partiti Da fantasma Che uccide Gianco Il marzano Il marzano ha fatto Un cumulo di polvere Un cumulo di polvere Che piange Io voglio andare Ad abbracciare il maestro Che cazzo era Ma no Ma no Ma ma io Marotta Fossi Marotta Ragazzi Era palesemente Era lui Era lui Era lui No No Diggi che è arrivato Ma che cosa Che si è arrivato A me Ma un milione Sto sentendo male No 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 Ma che hanno scelto Cantina Ma perché C'è per far capire Blur Cantina Hai fatto Ma come cazzo Hai capito Marotta Che c'è un fosso Si Io volevo scrivere Ma forse questa è andata però eh No Ero io Ero io Guarda Finita il puttanaio Fidati Bravo No no Ok Finita il puttanaio Fidati Niente Oh bello Finita il puttanaio Fidati Nooo Cosa ha fatto il marzone Va fare una cosa come il mio Tricheco del pop Tricheco che danza il pop Pop di tricheco Moscoloso Aspetta però la pop c'è comunque Però la pop c'è Si ma la pop è rimasta fino alla fine Ok 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 Clean allora Ho fatto un casino Ma ci ho messo il numero Perché 22 22 in the chat please 22 in the chat please Oh no Ok mi è arrivata Ho visto Ho visto Io so già che Martina c'è già in mezzo qua Grande No l'ho disegnato io No l'ho fatto io No l'ho fatto io No l'ho fatto io Ragazzi siamo su grande tazza E questo mi è arrivato Era già La tazza della fazza arancia Ecco Dov'è Ecco Ma questo ha fatto Va bene Chill Vabbè una parte è rimasta secondo me Allora a questo punto È rimasta solo tazza E poi con tre mani Ma che l'ho fatto Ma che l'hai fatto Ma che l'hai fatto La pott*****a è una mantide non è Che c'è tre mani È un bug Ok Ok Oh Dio Ok Oh my god Oh my god Oh my god No Ecco dove è arrivato No Ecco dove è arrivato Ragazzi guardate cosa ho fatto Io direi S-A-Z-Z Eh ragazzi Ma ci sto diventando Mastella Ma come fare il cappello della turma Io qua non ho scritto niente perché che cazzo c'è Mastella mi sto disegnando Cos'è? Mi sto disegnando Ma te ma che Oh però aspetta l'ho ripresa eh Faggilex Ok Faggilex Faggilex No però l'hai preso un cazzo Dinosauro viola eh Faggilex Faggilex ma è senza braccia questo il problema è che al posto di freezer c'era ma jimbo mamma mia di ma che ramo sei ma sei una scimmia no no non avevo tempo la lava è gialla due ore per fare queste cose ecco che cosa ha detto come la facevi? come la facevi? ecco che cosa mi è arrivato raga doveva essere intabile oh che è in le nuvole però eh bravo... le nuvole... le nuvole le fa bene ma almeno sei capito il problema è che... sì sei capito ma donna cosa sembra quel lomino è brutto tu nonostante ragazzi ma quellomino è morto due volte è morto Magari ci sono da vita per... ...brecchi liberi Guarda che pazzo mi è arrivato a me Mi fa male la cistina Ragazzi ma il tizio che è stato ucciso è un... ...è un chiantipede è Ma come ride quello là? Ma come fa male la mascella? Fai... ...ma la faccia aiuto Aspetta che forse questa si è tenuta Questa si è tenuta Questa si è tenuta Spam di pepe la friccia Sì sì pepe la friccia Non si è tenuta Non si è tenuta perché non sapevo ...perfederino No Ma per me ci fanno veramente delle merde Madonna santa Quante rughe Ditemi che l'abbiamo preso tutti No No Questa è Dima Ma c'è un problema di cervello Madonna santa L'anello di congiunzione tra la scimmia e l'uomo Adesso diventa la costa No vabbè ragazzi Ma Dima c'hai blocchito Hai rovinato la mia iphone Ma Dima veramente Per me sei un uomo erectus No vabbè Watch Grazie.